Oggi l'esercito americano ha annunciato un piano innovativo per reclutare nuove leve Se accetti di arrualarti adesso, avrai due biglietti per il festival heavy metal e un set di parafanghi per il tuo pick up Poi, dopo sei mesi di servizio, potrai ricevere come incentivo 30 grammi di marijuana 30 grammi! E dopo altri sei mesi, dell'altra Maria Ah, vuoi prendermi per il culo con tutta quella marijuana? E se andassi all'estero in periodo di guerra, avrai al termine della missione come riconoscimento Questo, una bella coniglietta libera Sti cazzi, firmo subito!